Uno che esce da un lavoro privato come ero io, da un'azienda privata, si catapulta a questa realtà, rimane subito favorevolmente impressionato dall'aspetto sociale. Io ricordo che una volta ero un ragazzo, ero in un imbarco di coils, che sono i rotoli di ferro, mi si sono fatto un taglietto in un dito, ma roba di poco, avrei potuto continuare tranquillamente a lavorare. Questi soci qua, io ero inesperto, mi chiamavano con il nome di mio padre, Germán, Germán, vattene qua, vandi a letto. E io non capivo, perché io non venivo dal lavoro dove andavi a lavorare con la febbra 40, perché ti avrebbero licenziato, ti avrebbero ottenuto i musi per sei mesi. E dicevo, ma come vado a medicarmi in coma? Erano le quattro, il turno finiva alle sei, ma no, vattene qua, vattene. Io ho detto, ma dove sono, in che paradiso sono capitato che mi mandano due ore prima via di suo lavoro. E quindi da lì ero già attaccato al porto per via di mio padre, però avevo capito che comunque, con tutte le virgolette messe al loro posto, non sarà stato più il lavoro di prima, ma comunque manteneva un po' di socialità, un po' di umanità che sotto privato non c'era. Da quando sono entrato purtroppo ho dovuto fare i conti, anche con un incidente mortale, che è su un piazzale, proprio in una fase dove non deve succedere, però quello è il nostro lavoro. Un mio carissimo amico, su un piazzale, quindi fra virgolette non con tanta fretta come può esserci su una nave, con un spazio intorno, purtroppo è rimasto schiacciato, morto sul corpo, schiacciato da un pacco di legname, e di diverse tonnellate, e quello mi ha segnato parecchio, perché comunque aveva un bambino piccolo e aspettava il secondo che non ha mai visto il suo papà. Quindi, Sergio aveva 30 anni, pare 30 anni per i giusti, 28 forse, 28. E quindi sono cose, però a volte veramente ti rendi conto che lì a non tornare a casa, un attimo, perché comunque sei sempre con, dalla roba che ti penzo sulla testa che pesa tonnellate, e in mezzo a dei macchinari che se ti mettono sotto c'hai poco scampo. E quindi, diciamo, anche noi giovani abbiamo già visto qualcuna di queste tragedie, poi senza contare gli infortuni più lievi, ma comunque seri, magari uno si rompe una gamba, o diciamo traumi di questo genere sono all'ordine del giorno. Ieri ho fatto la notte il quarto turno sul pontile della Fornico, la Carboniera, dove andiamo con un caposquadro e tre operai a fare, diciamo, a pulire la stiva di ciò che la benna non riesce a portare via, quindi le scalette, dove non riesce a lavorare la benna, noi a mano, ancora con delle zappe, con degli attrezzi lunghi, diciamo, facciamo la pulizia di questa stiva dove non può arrivare una benna. Ad esempio, un lavoro come quello lì, stai lì a disponibilità di sei ore, puoi magari scendere un'ora, puoi stare su in attesa mezz'ora, scendere un'altra mezz'ora, ecco, man mano che questa benna, questa gru va giù, tu devi seguire quello che resta dove lei non può operare. Più la lasci andare giù, più lavori male, perché poi allora c'hai la roba là su in cima, e quindi scendi con il nostro caposquadro, che è quello che segue il lavoro, ti dice ragazzi, scendiamo adesso, perché se chiaramente tu hai la roba in vita, come la chiamiamo noi, con una zappa, fai anche relativamente presto. Se cominci a dover stare in punta di piedi con un'asta che è lunga 4 metri, è un altro genere di sforzo. E quindi la segui un po', questo è un tipo di lavoro. Poi abbiamo le auto, adesso c'è una linea della NIC che va in estremo oriente, che prende anche delle macchine lussuose, tipo le Maserati, che sono fasciate da cima a fondo con dei nylon, e lì devi andarci giustamente, vestito adeguatamente, per non danneggiare. E lì c'è una squadra di autisti che porta a bordo, e una squadra di nostri colleghi, rizzatori, che di fatto le fissano alla nave, le legano, perché non si muovono durante il trasporto. Diciamo, è rimasto la varietà del lavoro, quella c'è sempre, perché rispetto per dire a un lavoro tradizionale di un altro operaio piegato, a parte la flessibilità, c'è tanta diversità. Oggi hai una zappa a mano, domani hai un mezzo meccanico che costa 300, 1000 euro, sei lì che operi su un payload, su un forcellone enorme, dopo domani sei... Cioè, fai sempre lavori diversi, hai svariate mansioni, diciamo, fra virgolette, non sembra, ma sei abbastanza specializzato, perché non fai mai la stessa cosa. Grazie. Grazie a tutti